Il primo giro non ci sarà volata, è solo per condizione. Dal secondo giro cominciamo. Allora, mi verrà eliminato uno a giro, mentre la più ultima volata sarà in cinque, mi sono eliminati due. L'ultima, che sono i tre, è la volata per il poker. Ok? Ci siete? Allora, sparte in sedici. Eliminiamo, a parte il primo giro, uno a giro. Quando la più ultima volata, si chiama il prototipo. Sempre lo vai. Uno, prendi il prototipo. Noi partiamo adesso. Allora, ci siamo al primo giro. Non c'è l'altro, è nato, 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 è nato. Non c'è l'altro, è nato, è nato, è nato, è nato. Adesso ragazzi da questo giro comincia la volata, si comincia il ritmo, tutti al chilometro, la prima linea si spostano le bici dalla seconda la volata, ci siamo ragazzi, adesso la prossima passare a gara, ci siamo, salve Bandelli, ci siamo, Sinta Po, le piace come è la gara questa? Grazie, è una novità, è la del Gardo, la bici di indietro, le bici si fermano, arrivano al ritmo numero 6, Filippolo Piccolo eliminato, no Filippo, comunque se vuoi venire qua in postazione grazie per l'intervista, grazie, approviamo volata, seconda volata, vediamo sempre uno, eccolo qua, vediamo chi sarà lo scorpirato, attenzione qua, attenzione, 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 Tito, Tito Di Berti eliminato, Lorenzo Perrona, a volta rischia, è lì, è lì, attenzione, Tito Di Berti prego, guardiamo, terza volata, vediamo, guardiamo un po' piede, punto di risposta, eccolo, guardiamo, 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 è lì, è lì, attenzione, Marco Simoni eliminato, vai vai vai, Grazie Marco, complimenti, grande Marco, eliminato, grande Marco, grazie, vieni qua, impostazione, Ci sono, sono qui, vai 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 paluncino, ragazzo, inviupso, grandissimo, e ora ci aspettiamo dei화, un'associazione microfonica, Alessio, Rosani Pesce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono ancora in due. Grazie a tutti. 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 Viola e a tutti. Grazie 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 a tutti. Marco, Marco, Marco Lozio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ricordiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.